Ciao ragazzi, ci sono M125, siamo qui su Assetto Corsa Allora, cambiamo subito auto, questa è l'auto che l'ultima volta ci ha fatto veramente disperare In questa pagina le abbiamo fatte tutte, tranne il Dreampack, che comunque io non ce l'ho E tranne la Giulietta KV, non lo so come si chiama, perché comunque abbiamo fatto la mita, sono praticamente uguali Allora, ci sarebbe un BMW, partiamo con le BMW Io quasi quasi partirei con la M30 Oppure, guardiamo un po' di macchine che ci sono Guardiamo se c'è qualcosa che vogliamo provare Ovviamente qualcuno mi scrive di fare le Ferrari Le facciamo, non vi preoccupate, datemi il tempo di arrivarci Potremmo farci questo KTM X-Bow, sapete che me lo faccio adesso? Bella questa qui, la miura Allora, questa qui l'ho vista dal vivo, è veramente bellina Facciamo il KTM Posso cambiare? No, aspetta, cambia auto Perché? Infosessione, basta andare in infosessione Voglio cambiare il colore, vediamo che colori ci sono No, guarda che ci sono un sacco di colori Questo, questo, il verdino, anche il verdino mi piace Il KTM ci sta bene con tutti i colori Fammi vedere, fammi vedere, prendiamo un colore che sia carino Nero no, perché non, anche così mi piace Diciamo che l'arancione è il colore del KTM Quindi io quasi quasi andrei su questo, o su questo verde Facciamoci questo, dai Quindi torno indietro, ovviamente sempre sul KTM X Vi faccio vedere il realismo Il realismo, facciamo sempre esperto L'unica cosa che modifichiamo sono le termocoperte Quindi, niente, ci vediamo direttamente in pista Allora, la macchina è molto bella Anche il motore si sente, eh Questa è una piccola Formula 1 Guardate qui che figata Guardate come gira la testa Oh yeah, oh yeah, oh yeah No, 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 ok Basta cazzate Allora, questa è la visuale, non saprei di che cosa Questa è la visuale senza niente Questa è la visuale qui Noi vogliamo sempre questa Mettiamo la prima C'ha il KERS No, non c'ha niente Non c'ha né ABS né Traction Control Bene Questa potrebbe essere veramente difficile da portare Ma ricordo che era molto difficile questa macchina Questa macchina l'hanno fatta apposta per far Divertire, provare alle persone Cosa vuol dire guidare una macchina da Formula 1 Perché è potente e cattiva Ma inguidabile se non sei bravo Se non sei capace a frenare bene Perché questa macchina sta per terra Guardate qui quanto sta per terra Sento tantissimo lo stesso leggero Mi trasmette sensazioni diverse questa macchina Sta tantissimo incollata Però dovete essere bravi Gli ho dato un colpettino troppo forte Mi sto dimenticato che qui Guardate qui saliamo di quarta senza problemi Non c'è bisogno neanche di cambiare Guardate qui poi dopo che è impostata la curva Quella rimane Questa è una macchina che è incollata per terra Quindi bella sta macchina Sta macchina mi piace tantissimo Si guida benissimo si guida Facciamo bene le curve Cerchiamo di non mettere le ruote fuori strada Vedete qua inizia Quell'accenno di gomme Che iniziano a slittare Però non ti dà mai quella sensazione lì Che dice oh cazzo sono il limite Invece no questa macchina è proprio su un binario Guardate qui la mettete dove volete Le resta le resta anche tutta accelerazione In uscita non vi dà problemi Vabbè che sono di quarta Guardate la quarta quanta è comoda Su quest'auto Qui potremmo mettere anche la terza Qui la terza vediamo un po' Mi aiuta un po' di più Uh ok Qui la terza mi aiuta Benissimo C'è anche il cosino che ti lampè Uh qua gli ho dato una frenata troppo cattiva Bella 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 però non mi sembra che mi sia uscito Il bloccaggio delle ruote Quindi vuol dire che la macchina Tiene la macchina tiene Guardate qui potete stare tranquilli Su quest'auto Mi sento proprio tranquillissimo Su quest'auto La quinta Faremo un buon tempo secondo me Se non facciamo errori Faremo un buon tempo Ok Terza Ulala Ricordiamoci che quel paletto lì È bloccato per terra In un modo incredibile Ho fatto errori Ho detto non facciamo errori E ho fatto il primo errore Mi è partito di accelerazione Guarda Mi parte tantissimo di accelerazione Mi parte di accelerazione questa macchina E purtroppo quando parte di accelerazione Non è che ci puoi fare niente Peraltro Non c'ha C'ha un ritorno Disperso Incredibile Quasi nullo Dobbiamo stare attenti Perché comunque Gestire tutta quella potenza Non è semplice Ok Però guardate qui Se la guidate bene Quest'auto può essere Veramente una macchina da tempo Questa qui è veramente Rigidiale come macchina Qui potete veramente imparare a A portarla Poi c'è quel Quell'ampeggio lì Che mi aiuta tantissimo Mi aiuta tantissimo Quell'ampeggio Non gli metto la terza Perché ho paura Di ribaltarmi Come ho fatto prima Perché la terza È una marcia Molto cattiva Su quest'auto Avete visto Quanto ci siamo ribaltati prima È un attimo Fare il testacoda Comunque Si guida come su un binario St'auto Quando tu giri lo sterzo La senti proprio Che sta andando dovevi tu Qua devo stare attento Perché questa qui È una curva Un po' Imbecille Oh Ho bloccato le gomme Qua ho sbagliato io Ho frenato troppo Ho frenato Ok Ok Va benissimo A quest'auto Voi la mettete lì E vaffanculo C'è veramente bella St'auto St'auto la vorrei guidare Anche dal vivo Ho visto che quel tale ale Se non sbaglio L'ha guidata Quel tale ale Se non sbaglio Quest'auto L'ha guidata O non era questa Boh Non mi ricordo più Chi l'ha guidata Ho visto qualcuno Che la portava È bella Difficile Cattiva Questa macchina qui È una macchina Da divertimento Magari se avesse avuto L'ABS Il traction control Era il massimo Del divertimento Perché questa macchina qui Non è che ha un motore potente O chissà che cosa O tipo la massima Della potenza Cioè ha un motore potente Perché ho fatto Seconda Terza Seconda Terza Poi non ho messo Cambiato marcia Vabbè Ha un motore potente Però È potente Per quanto riguarda Il peso della macchina Cioè è il rapporto Questa potenza Che è molto elevato Su quest'auto Quest'auto qui È molto leggera E quindi quando voi Andate a A guidarla Sentite tutta la potenza In pieno Vedete qua Che inizia a lampeggiare Mi dice cambia Metti la quinta Lo dice lui Me lo dice Quindi è fantastico Quella lampeggia Anche se non si vede Benissimo Uuu Si è arrivato lungo Ho dovuto per forza Bloccare un po' le gomme Ecco Purtroppo poi l'uscita È quella che Ho sbagliato io Ho sbagliato Ho sbagliato di nuovo Guarda che ci giochiamo Il tempo Con quest'auto Solo per gli errori Sai magari Se facessi un giro pulito Potrei fare un tempo Anche migliore Però Il giro pulito Non è per me Ecco per esempio Adesso sono uscito di nuovo Però l'ho ripresa Dai Prima e seconda Le devo cambiare subito Perché sono delle marce Troppo cattive Come detto Se avessi avuto Il traction control E l'ABS Questa macchina Era una macchina veramente Da Da farti divertire In montagna Cioè la portavi dovunque Peraltro è una macchina stradale Quindi la potete vedere Anche Cioè in città non credo La potete vedere comunque Sulle strade Perché Comunque è una macchina difficile Da vedere su strada Perché non avendo Non avendo Che di Come dire Il La copertura superiore Quando piove L'acqua diventa Una barca diventa Cioè Un barca acqua Da tutte le parti Comunque Questa macchina qui Si guida veramente bene Non so come sto tenendo le mani Non so perché Non tengo le mani Come si deve Così come si dovrebbero tenere Guarda quanto la puoi tirare La tiri tantissimo Questa macchina Ok Mettiamo la seconda Sono arrivato di lungo Sto arrivando tantissimo Eh Poi il problema Qual è di questa macchina Che quando tu acceleri Se ne va Se tu acceleri Leggermente Così come la formula 1 La formula 1 Se tu acceleri E sei Infatti come fanno A fare i piloti A fare i cerchietti Quando fanno le Tipo le demo I ritrovi Dopo che vincono il mondiale Mettono la macchina Poco poco girata Danno tutto gas Come sto facendo io Male In questi punti Danno gas E la macchina gira da sola Perché la potenza È talmente elevata Che le ruote Iniziano a slittare Poi vabbè Che loro hanno Possono gestire bene La frenata Anche sull'anteriore Sul posteriore Quindi sposti tutta La frenata sull'anteriore E ci va Uh Frena 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 Metti la terza Attenzione in uscita Per questa macchina Il problema di questa macchina Non è Le curve veloci Ma è l'uscita Dalle curve Oltre le frenate Che non ha l'ABS Perché non avendo l'ABS Non ti aiuta per niente Perché sto guidando così Ok Incrociamo le mani Come si fa a Monaco Con le Formula 1 Ho acceso le luci Mo ho acceso le luci Erano con le luci spente Ecco cos'è che non funzionava Eh senza luci Non puoi andare Il problema di questa macchina È la frenata E l'uscita L'uscita di cura Perché la potenza Non è la potenza Io dico sempre la potenza È il rapporto peso-potenza È quello che è particolare Di questa macchina Con un rapporto peso Così Peso-potenza Così Oh guardate qui Ho sbagliato tantissimo Ho sbagliato io Ho sbagliato io Su questa cura Guardate qui Di quarta in piena accelerazione Non si fa problemi Non si fa problemi Quest'auto Veramente ottima Veramente ottima C'ha una tenuta di strada Che è la fine del mondo Poi io non so guidare Ovviamente Ovviamente faccio queste gagate Faccio Perché mi distraggo Perché mi distraggo Alla fine Quello è il mio problema Il problema è che Mi distraggo tantissimo Ok Vai così Vai così Perfetto Il problema di questa macchina È È questo È questo È sempre quello È che la macchina C'ha troppo potenza Rispetto al peso Uh Che cazzo Tutti i palletti qua Che sono fatti di Di acciaio Pressofuso Infilati fino al centro Della terra Vedete quanto Quanto slitta Vedete quanto Quanta potenza c'ha Questa è tutta energia Che la macchina Dovrebbe scaricare meglio E il problema Non è che Là ci vuole un traction control Ci vuole Uh Cosa ho combinato Cosa ho combinato Non so perché Si è rotto il paraurti Mi ha toccato per terra Forse Potresti che Mi abbia toccato per terra Il paraurti Ho ottenuto la terza Qui dovevo mettere la seconda Vabbè Non fa niente Non fa niente Non mi preoccupate Vedete Come Pure il rumore del motore Come Come è molto accentuato Questa è una macchina Dove per divertirsi Io questa macchina qui La vorrei tanto guidare Nella Nella realtà C'è una potenza Per chilogrammi Assurda Anche se poi La dovrebbero dare con l'ABS A me gentilmente Perché se no Io faccio strunzate Faccio O almeno chiedo Mi mettono tipo Una pallina da golf Sotto al pedale del freno Così so che schiaccio Fino al massimo Al 90% E oltre non posso andare Che sull'asciutto Si può fare Sul bagnato Poi è ancora più difficile Senza Senza BS Sul bagnato Infatti perché Le macchine stradali Guarda qui Che casino che sto facendo In queste puntate Si è bloccata Si è bloccata Perché si è bloccata Eh perché non mi toccano Le ruote posteriore Maledizione Va bene Finisco questa puntata Non l'abbiamo finito Neanche con questa macchina La seconda macchina Che non portiamo a conclusione Ci siamo Ci siamo bloccati Lì sotto Molto divertente Molto difficile da guidare Ma molto divertente Ci vediamo Nelle prossime puntate Ciao 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 Grazie a tutti